Benedetto sei tu, Signore Padre Santo, e hai mandato il tuo figlio nel mondo per raccogliere immunità, mediante l'effusione del suo sangue di uomini lagerati e dispersi dal peccato. Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovine, perché chi entra sia salvo e chi entra ed esce trovi i pascoli della vita. Dona i tuoi fedeli che marcano questa sogna, di essere accolti alla tua presenza, oh Padre, per Cristo tuo figlio in un solo spirito. Fa, oh Signore, che quanti animati da fede filiale si raduneranno in questa chiesa, siano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e delle brigliere, e crescano in numero e merito per edificare la celeste Gerusalemme. Per Cristo nostro Signore. Amén. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti